Allora, Avvocato Nicolini, solo pochi anni fa non esisteva né internet né la telefonia mobile. La digitalizzazione è un processo sempre più veloce e travolgente che cambia completamente le nostre vite, però senza darci il tempo di definire il nostro futuro. A questa velocità non rischiamo che tutto dipenda dal mercato e dalla finanza e noi non decidiamo più nulla? Il rischio c'è, il rischio indubbiamente c'è, ma non ci dobbiamo rassegnare a questo rischio e anzi la sfida è di mettere la persona, il cittadino, al centro di questa sfida. È senz'altro positivo che in questa transizione ecologica e digitale gli argomenti abbiano preso cittadinanza anche nei nostri dicasteri e quindi siano stati messi al centro. Ma questa transizione deve essere governata, e quindi deve essere governata sia dalle persone che dai principi. Adesso sempre più investitori stranieri, fondi soprattutto, investono in società che abbiano un'attenzione particolare alla sostenibilità, alla governance e all'environment, all'ambiente. Se saremo in grado di orientare gli investimenti e anche questa nuova finanza verso degli obiettivi che possano essere in linea anche con lo sviluppo della persona nell'ambiente in cui vive, beh, questa sfida l'avremmo vinta. Diversamente se soccomberemo non sarà una transizione che avremo portato a casa con successo. È ovvio che deve essere fatto un nuovo patto, un nuovo patto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Non si parla soltanto di efficientamento energetico, bisogna parlare di efficientamento normativo, una semplificazione normativa. E parlando di rilancio e della velocità che diceva prima lei, in questa velocità dei sacrifici bisogna farli. Allora non facciamoli fare alla persona, al cittadino, facciamoli fare magari a delle sacche di sovranità che magari possono essere rinunciate non a scapito del benessere comune. Senz'altro delle lungaggini e delle problematiche che ci sono per quanto riguarda i procedimenti autorizzativi, amministrativi, valutazioni di impatto ambientale. Se questo potesse essere semplificato e l'amministrazione venisse vista come supporto al cittadino e non come un insieme di vincoli, è certo che questa sfida l'avremmo vinta. Però per fare questo bisogna anche rinunciare a dei permessi, autorizzazioni, veti, che spesso sono delle prerogative a cui non si rinuncia così facilmente. L'Italia è in una fase di piena transizione digitale, forse anche un po' indietro rispetto ad altri paesi. Quali sono le sfide più imminenti di questo nostro processo di sviluppo? Le sfide sono tante, però me ne vengono in mente tre particolarmente importanti. Uno è senz'altro stare accanto al tessuto connettivo della nostra imprenditorialità, che sono soprattutto le piccole e medie imprese, quelle che hanno sopportato forse il peso più grande della pandemia. Ecco, stare vicino a coloro che vogliono ripartire con un spirito nuovo, magari con un passaggio generazionale, investire in nuove tecnologie, ecco, quella secondo me è una priorità. L'altra è senz'altro la formazione. Abbiamo visto che danno incredibile hanno avuto i nostri giovani, per non andare a scuola, all'università. E certo il remoto, non preparato e inaspettato, come è stato quello dell'ultimo anno, e passa, è certo, ha fatto vedere un gap che ha l'Italia anche per quanto riguarda l'investimento tecnologico nella formazione. Per cui, ecco, investire nella formazione è una ricchezza che va, mi avviso, assolutamente sfruttata. E poi l'altro punto è il trasferimento tecnologico. investire in tecnologia, università, centri di ricerca. E se vogliamo tenere questi famosi cervelli in Italia, bisogna che gli diamo l'opportunità. Per dargli l'opportunità bisogna anche dargli i mezzi, perché posso portare avanti le ricerche. Ma a questo punto, che se noi chiediamo che ci siano degli investimenti, vuole dire che questi investimenti possono anche essere messi a frutto. E quindi un domani il privato anche se ne possa avvantaggiare. Ecco, questi sono, per esempio, tre settori dove il nostro venture capital nazionale, CDP Venture, sta investendo molto sostanzialmente. Come cambierà, nella sua immaginazione, il nostro futuro? Come immagino il futuro? È difficile dirlo, perché prima della pandemia tutti noi ci immaginavamo un futuro diverso. Posso dire cosa spererei? Ecco, spererei in un futuro dove al centro ci sia la persona. Anche perché il governo, il controllo di queste transizioni digitali, ecologiche, non può che essere fatto dalla persona. Ecco, e anche che gli investimenti, gli sforzi, nuove opportunità, siano date secondo un criterio che prediliga lo sviluppo di una filiera. Cioè, non soltanto iniziative che riguardino una singola area. Pure quelle vanno bene. Ma se ci fossero delle iniziative che riguardassero più soggetti coinvolti nella produzione di un bene, di un servizio, del prodotto finale, ecco, io penso che questi sarebbero in qualche modo da tenere in grande considerazione. Anche perché lì, con un pizzio di patriottismo lo dico, potremmo riacquistare il nostro senso di fare squadra. In passato abbiamo perso tanti appuntamenti, vediamo di non perderlo questa volta, perché abbiamo gli strumenti, le risorse e la testa per fare questa cosa molto bene.